Le cattive notizie per l'ospedale San Massimo di Pene non finiscono mai. Dopo la certezza del declassamento ad ospedale di area disagiata e i vari reparti che scompaiono, adesso i problemi si stanno riversando su un'altra eccellenza del nosocomio vestino, vale a dire quella del reparto di gastroenterologia, un reparto che riesce ad effettuare oltre 600 esami di endoscopi annui. Un reparto guidato dal dottor Della Sciucca e dalla dottoressa Spezzaferro che operano appenne nel settore dal 2012 ed è un unicum in Abruzzo. Un'equip che si occupa delle lesioni benigne e maligne del pancreas, ma anche delle vie biliari, dell'esofago, dello stomaco, del duodeno e del retto, con svuotamento, sempre per via endoscopica, di grosse raccolte fluide, con conseguente enorme beneficio per i pazienti in termini di sintomatologia dolorosa, con digenza brevissima e in regime di The Hospital. Come annunciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Domenico Pettinari, ieri pomeriggio presso l'ospedale San Massimo è arrivato il mezzo addetto al prelievo dei due macchinari, l'endoscopio e il duodenoscopio, che serviranno, a detta dell'azienda sanitaria locale, per due giorni a settimana presso l'ospedale civile di Pescara, per poi far ritorno nell'ospedale Vestino per gli altri giorni e a seconda delle necessità. Tutto questo ha suscitato, oltre al malcontento di alcuni schieramenti politici, l'ira del Comitato Salviamo l'ospedale di Penne, che nel pomeriggio è tornato a protestare per avere risposte a tutto quello che sta accadendo, ed ha cercato in tutti i modi di evitare che questi macchinari potessero essere prelevati e portati a Pescara, desistendo solo all'arrivo della notizia che il macchinario verrà utilizzato per un'operazione delicata. Ma in queste ore il Comitato sta preparando un esposto alla Procura della Repubblica per avere delle risposte. Sempre dal Comitato arriva l'appello a tutti i candidati per le prossime elezioni regionali di prendere a cuore le sorti dell'ospedale San Massimo, perché resti una certezza per migliaia di utenti e per una popolazione come quella Vestina che invecchia sempre di più.